Stavamo parlando di successo, no? Quindi in poche parole vi ho spiegato che il termine successo non dovete vederlo con un'accezione negativa, quindi non dovete pensare al successo come una cosa negativa, come una cosa che cambia le persone e quant'altro, perché non è assolutamente così. Quindi una persona può essere cattiva anche se non ha raggiunto il successo, non ha alcun successo, una persona può essere buona anche se non ha successo, quindi iniziate a vedere il successo come una cosa positiva, come una cosa da raggiungere per poter raggiungere il corpo dei vostri sogni, per rientrare in quei pantaloni che tanto vi piacciono e quant'altro, ok? Perché se avete una visione negativa del successo non lo raggiungerete mai e dato che prima vi dicevo che il successo non è diventare un'attrice famosa, non è diventare una cantante famosa, non è diventare una star di Hollywood, una stella di Hollywood, bensì è proprio raggiungere quelli che sono i propri obiettivi, ok? I limiti sono solo nella tua testa, che è una frase che vi viene detta spesso, magari avete visto anche questa frase scritta su un post motivazionale, però ecco, magari nessuna di voi ha realmente capito che cosa significa questa frase. Quindi facciamo un po' di chiarezza. Questa sera parliamo appunto di convinzioni, credenze. Che cosa sono le convinzioni, cosa sono le credenze? Possiamo chiamarle sia convinzioni che credenze, è la stessa cosa. Per credenza ovviamente non si intende il mobile che avete nella dispensa, quindi non si intende il mobiletto dove avete tutti gli snack, tutti i dolci, tutta quella roba lì. Per credenza si intende un qualcosa nella quale credete. Ad esempio, ci sono persone che sono fermamente convinte che i carboidrati facciano ingrassare, così come ce ne sono altre che pensano, credono fortemente nel potere dei bibitoni e delle pilloline magiche. Così come ce ne sono altre che credono ai fanghi anticellulite, oppure ce ne sono altre che credono ai massaggi anticellulite e antigrasso, ok? Ognuna di voi crede in qualcosa. E in quel qualcosa nel quale credete vi sta o limitando, perché vi impedisce di fare determinate azioni, oppure vi sta andando a potenziare. Quindi è una credenza potenziante che in qualche modo fa uscire tutto il meglio da voi. Facciamo un esempio pratico, quindi facciamo un esempio per capire questo discorso. Se sei una donna che attualmente non sta mangiando i carboidrati perché ha paura di ingrassare, oppure perché crede che i carboidrati facciano ingrassare, le risposte, diciamo, il perché di questa cosa potrebbero essere, le cause, va diciamo così, potrebbero essere due. O hai provato una dieta chetogenica, quindi una dieta senza carboidrati, e sei dimagrita, quindi dentro di te hai rafforzato, hai sviluppato la convinzione che i carboidrati facciano ingrassare, o hai sentito da qualche fantomatico esperto dire che i carboidrati fanno ingrassare, o ce n'è un'altra ancora, hai sentito dire da qualcuno che i carboidrati fanno ingrassare, quindi dentro di te era nata un po' questa convinzione, hai fatto una dieta chetogenica, hai perso dei chili perché hai fatto la fame eliminando i carboidrati, e ti sei convinta in qualche modo, appunto, ancora di più hai rafforzato quella convinzione che i carboidrati fanno ingrassare. Quindi così nasce una convinzione, hai sentito un qualcosa da qualcuno, i carboidrati fanno ingrassare, le pillole fanno dimagrire, il sale fa uscire la cellulite, questa è una cagata pazzesca, perdonatemi per questo termine, ma è una proprio una di quelle scemenze che veramente io non lo so come si faccia a dire che il sale fa uscire la cellulite, quando la cellulite proviene principalmente da grasso, non da ritenzione, perché sono due cose diverse, ma non ne parliamo in questa diretta. Quindi hai sentito dire da qualcuno questa frase, questa cosa, hai magari provato sulla tua pelle che quella cosa effettivamente è vera, dal tuo punto di vista, in base a quello che hai provato, e quindi ti sei convinta che quella cosa sia così. Quindi il problema qual è? È che le credenze, cioè il credere che i carboidrati facciano ingrassare, è una credenza limitante. Perché? Perché nel momento in cui non mangi la pasta, non mangi il pane, non mangi la pizza, quello che succede è che nel lungo periodo poi non riesci più a non mangiare i carboidrati, non mangiare il pane, non mangiare la pizza, e quindi poi tendi a sviluppare fame nervosa, abbuffate, perdi il controllo e quant'altro, e quindi capisci che ti allontani sempre di più dal raggiungimento di quello che è il tuo obiettivo. Mentre una persona che crede che i carboidrati non facciano ingrassare, che i carboidrati vadano mangiati, che i carboidrati non fanno male, che si può mangiare la pasta, che si può mangiare la pasta anche dopo le 18, quella persona ha una credenza potenziante, perché appunto non crede che i carboidrati facciano ingrassare, che non è così, non fanno ingrassare, e quindi segue un'alimentazione all'interno della quale mangia i carboidrati, arrivando poi a raggiungere il suo obiettivo, seguendo un percorso, eccetera, eccetera. Perché quindi i limiti, che cosa significa? Che i limiti sono nella vostra testa e che in qualche modo vi state limitando, non state dando il massimo, non state uscendo fuori, non state facendo uscire fuori tutto il vostro potenziale, tutto ciò che avete dentro. Che cosa significa questa frase? I limiti sono solo nella tua testa. Che molto spesso, a causa di tutto ciò che vi inculcano, che questo fa male, quello fa bene, che i bibitoni fanno dimagrire, tutta questa roba, che se siete in menopausa non potete farci nulla, che è questo, che è quello, tutte queste credenze limitanti che vi hanno inculcato, in qualche modo vi impediscono di far uscire fuori tutto il vostro potenziale, vi impediscono di raggiungere quel determinato obiettivo, perché vi autoimponete dei limiti, che in realtà non sono vostri, perché sono di quelle persone che ve li dicono, e quindi, appunto, magari vi limitate nel mangiare un piatto di pasta, per poi finire per abbuffarvi, perché se vi private di un alimento, sapete già che poi il desiderio di mangiarlo è talmente grande che poi finite in abbuffate e quant'altro. Quindi ecco cosa significa, i limiti sono nella tua testa, cioè tutto quello che credete, in qualche modo o vi limita nell'ottenere quel risultato, o vi spinge a raggiungere quel risultato, ma se in questo momento che state guardando questa diretta avete dei chili di troppo da perdere, ci sono un sacco di credenze negative, qui c'è scritto convinzioni, ma non si legge perché è scritto arancione, poi è scritto al contrario, che vi stanno limitando nel liberarvi di questi chili e chili e chili di troppo. Facciamo un esempio un po' diverso, no? Dal punto di vista dell'alimentazione, per farvi capire meglio questo discorso dei limiti, delle convinzioni e delle credenze, che mi rendo conto magari possa sembrare un argomento difficile, ma in realtà è molto molto semplice, e davvero capire questo concetto vi svolta proprio il modo di vedere, di vivere. Allora, facciamo un esempio quindi per capire meglio come nasce una convinzione, come si instaura all'interno della persona e come appunto una convinzione tende poi a limitarvi. Allora, prendiamo la Lucia e Michela. Allora, Lucia è convinta di non essere brava in matematica, mentre Michela è convinta di essere bravissima in matematica. Perché Lucia è convinta di non essere brava in matematica e Michela sì? Perché Lucia, quando andava all'elementari, aveva la maestra che le diceva Lucia è sbagliato, sei una frana in matematica, non riuscirai mai ad essere brava, non sai fare neanche i calcoli più semplici, bla bla bla. Quindi la maestra riempiva la testa di Lucia con queste cose negative, quindi le diceva non sei brava, non sarai mai brava, non sai fare i calcoli, e fai schifo, eccetera, eccetera. Mentre Michela, quando andava all'elementari, aveva una maestra che le diceva mamma mia Michela tu sei bravissima in matematica, sei un genio della matematica, non ci sono delle bambine come te, è difficile trovare delle bambine come te, sei veramente bravissima in matematica, no? E magari aveva anche dei genitori che le dicevano wow Michela sei bravissima, andrai benissimo a scuola, alle medie e alle superiori vedrai che in matematica sarai il genio della classe. Mentre Lucia aveva dei genitori che le dicevano ma va, tu in matematica sei una schiappa, non scegliere un liceo scientifico perché verrai bocciata fin da subito, no? Magari le dicevano tutte queste cose qui. Quindi, che cosa è successo? Che abbiamo? Lucia, che è convinta di essere una schiappa in matematica, ed è convinta perché ha avuto delle esperienze esterne, la maestra, i genitori, i compagni di classe che la prendevano in giro, che l'hanno convinta in qualche modo che la matematica non fa per lei, cioè che lei e la matematica sono come due rette parallele che non si incontrano mai. Da quest'altro lato invece abbiamo Michela, che è super convinta di essere un genio in matematica. Perché? Perché ha avuto un'esperienza esterna, anzi ha avuto più esperienze esterne che praticamente le hanno fatto credere, le hanno fatto nascere dentro di sé questa convinzione di essere un genio della matematica. Ora, qual è il punto? Che Lucia, quindi, crede di essere una schiappa e cercherà in tutti i modi di evitare la matematica il più possibile. Cercherà di andare in un liceo dove non si studia la matematica, cercherà di, non lo so, evitarla in tutti i modi, di copiare in tutti i modi i compiti in classe, perché proprio magari non le entra in testa la matematica, e invece Michela che andrà ad un liceo scientifico, magari poi sceglierà proprio l'università, la facoltà di matematica, insomma una pazza, una pazza, no, per scegliere la facoltà di matematica. Io sono una schiappa in matematica, ad esempio, e io ho sempre odiato la matematica per esperienze negative e avute proprio alle elementari con queste maestre che tanto maestre non dovevano essere. Ma tralasciamo questo discorso. Cosa succede? No? Cosa succede? Abbiamo capito che Lucia è una schiappa in matematica, o almeno è convinta di essere una schiappa in matematica e Michela è un genio. Però, purtroppo, come ben sapete, in qualsiasi percorso scolastico, parlando della scuola dell'obbligo, quindi parlando di elementari, medie e liceo, voi sapete benissimo che la matematica è sempre presente. Anche se si va ad un liceo linguistico, comunque ci sono delle ore di matematica, delle ore di fisica, delle ore di geometria da dover fare, no? Quindi la matematica è sempre presente. Che cosa succede? Quando Lucia avrà un compito di matematica o avrà un'interrogazione di matematica, in qualche modo tenderà ad autosabotarsi. Perché? Perché non si metterà a studiare, perché è convinta che anche se apre il libro di matematica lei non capirà una ceppa di quello che c'è scritto. Quindi nella sua testa c'è la vocina che le dice ma che cavolo studia a fare? Tanto domani vai in classe e prendi tre. Perché? Perché sei una capra in matematica, quindi è inutile che tu studi adesso. La vocina. E di qua invece abbiamo Michela che, dato che ha la convinzione che è brava in matematica per tutte le cose che abbiamo visto prima, la vocina di Michela invece le dirà vai studia perché domani sarai la migliore della classe e prenderai undici alla verifica di matematica. Se la professoressa ti interroga prenderai anche la lode che non c'è neanche al liceo, no? Ok? Ovviamente il dialogo interno che hanno è diverso e questo comporterà che Lucia prenderà sempre il debito in matematica e Michela no. Perché vi ho raccontato questa storiella con Lucia e Michela che tra l'altro sono dei pennarelli, no? Sono diventati dei pennarelli. Ah, mi sono dimenticata questa cosa. Ovviamente Lucia non è impedita con la matematica perché nessuno di noi è impedito per una materia. Ok? È normale che una donna, o meglio, una qualsiasi persona quando si ritrova a fare un qualcosa di nuovo o un qualcosa che non ha mai fatto prima è normale che possa risultare difficile. È normale perché se domani vi al lavoro, ad esempio, adesso mi rivolgo a voi donne, se domani vi propongono un nuovo lavoro che non avete mai fatto prima è normale che sia difficile per voi svolgere quel lavoro perché non l'avete mai fatto prima. Quindi è normale che avete delle difficoltà a fare quelle cose che vi dicono di fare al lavoro che magari i vostri colleghi fanno queste cose con una facilità estrema e voi siete lì che per fare la stessa cosa che il vostro collega fa in 30 secondi voi impiegate 30 minuti. È normale, ok? Quindi, anche se Lucia pensa di essere negata in matematica può comunque diventare un genio della matematica. Basta semplicemente che si ispiri, ad esempio, a Michela inizia a frequentare Michela inizia ad uscire con Michela iniziano a parlare di matematica Michela inizia a distruggere quella convinzione che le è stata instaurata, installata dalla maestra, dai genitori e quant'altro e anche Lucia può diventare un genio della matematica. Ok? Perché non è impossibile. I limiti di Lucia dello studiare la matematica sono dei limiti imposti da persone esterne la maestra, i bambini che la prendevano in giro i genitori e quant'altro. Perché vi ho fatto questo esempio inerente alla matematica? Cosa c'entra la matematica con l'essere in forma, con il dimagrimento, con l'aumento di peso e quant'altro? Perché è quello che è successo anche a voi anche a voi che non state ottenendo risultati. C'è qualcuno che vi ha inculcato che i carboidrati fanno ingrassare c'è qualcuno che vi ha inculcato che la pillolina fa dimagrire siete come Lucia e il fatto appunto di credere di eliminare i carboidrati di prendere la pillolina vi sta limitando perché? Perché fate sempre gli stessi errori vi affidate sempre al bibitone magico alla pillolina magica siete sempre punto e da capo c'è sempre quella vocina dentro di voi che vi dice che dovete eliminare i carboidrati non dovete mangiare i dolci e quant'altro e tendete ad autosabotarvi perché non riuscite a raggiungere l'obiettivo perché è insostenibile cioè non potete pensare di perdere 20 kg eliminando i carboidrati perché alla lunga dopo una certa diventa complicato diventa e mentalmente non ce la fate più ok? quindi come si fa ad eliminare questa convinzione negativa magari che avete nei confronti del cibo o nei confronti delle non lo so credete che le pillole facciano dimagrire come si fa ad eliminare questa convinzione? beh bisogna guardare le persone che hanno raggiunto un risultato bisogna ascoltare le storie delle persone che mangiando i carboidrati mangiando la pasta mangiando la pizza mangiando quel che è sono riuscite a raggiungere il loro obiettivo o quantomeno si sono avvicinate si stanno avvicinando a raggiungere il loro obiettivo se non avete delle persone da cui insomma delle storie da ascoltare di donne che sono dimagrite con il metodo FESPA c'è il gruppo c'è il gruppo Facebook Guerriere Informa ci sono tutte le donne che stanno ottenendo risultati mangiando la pasta il pane la pizza la carne il pesce tutto bene parlate con loro e eliminate queste convinzioni limitanti che vi hanno installato che vi impediscono di essere in forma e di raggiungere la vostra forma fisica ideale questo argomento delle convinzioni rientra tutto nel discorso della mentalità parte tutto da lì ecco perché è importante avere un approccio mentale di successo un approccio mentale volto al migliorare al migliorarsi ok perché un percorso di dimagrimento si migliora il fisico e quant'altro ma deve servirvi anche per migliorare quella che è la vostra autostima per eliminare quella vocina negativa che sentite nella vostra testa no quella vocina che vi dice che non ce la fate che non ce la potete fare che ormai siete vecchie che ormai siete col metabolismo lento tutte quelle convinzioni che vi hanno installato no in qualche modo e vi hanno fatto praticamente il lavaggio del cervello facendovi credere delle cose che in realtà non esistono ecco dovete eliminarle perché nel momento in cui eliminate quelle convinzioni negative quelle convinzioni limitanti che vi stanno limitando in questo momento impedendovi di migliorare ecco che avete quello switch mentale che vi consente poi di raggiungere quella mentalità di successo di cui vi parlavo nell'altra diretta quindi nella prima diretta non in questa e poi ovviamente il tutto è in discesa